Allora, i premi sono per i primi tre classificati, però voglio comunque ringraziare per la classifica della categoria A1, cioè diciamo i principianti, la Saltarelli Benedetta e la Cancellieri Martina che hanno fatto un montaimo. Poi voglio, è quarto classificato il signor Arcangelo Emanuele Sulzaire. Tutti i cavallieri Ecomont ancora, la signorina Tulli Eleonora Sunairin vince il terzo premio. Vieni Eleonora, vieni su a prenderlo. Allora, a lei la premierai te, no? E a lei, bene. E tu sei il presidente della BDM? Sono un nulla facendo. Il nulla facendo della BDM premia Eleonora Tulli per il suo terzo premio, terza classificata alla Gincana di Mercantello, ma stai qui, dai, tutti i tre insieme qua. Il secondo classificato, anche lui, appena... Tu quanti anni... Lei ha l'età... Però, però... Questi sono ben accetti, mezzo formaggio e un salame. Ma un altro... Lei ha l'età di mia figlia e il prossimo, il secondo classificato, invece, è leggermente più grande. Non è ancora in pubertà, però... Tiberi Giuseppe! Del topino sul tango! È arrivato secondo nella classifica categoria 1 e viene premiato da una delle nostre vallette, che è l'indianina, l'indianina che ti chiami? Lucia! Lucia, l'indianina Lucia, il bacino, e invece, diciamo invece, una cowgirl, Giorgia, la cowgirl Giorgia, e la coppa e il salame e il formaggio. Allora, il pane... Mentre invece, mentre invece, sorpresa, sorpresa, su Nairin, la prima classificata della categoria A1 è Marchionni, Emma, con 2 minuti e 76 secondi. Emma verrà premiata dall'uno facente della BDM. No, no, invece, sono stati molto scatri, ragazzi, hanno visto il... la bella cosa da poter fare, e anche lei si prende il suo salame, la sua coppa, il suo formaggio. Un applauso a questi giovani cavalieri e giovani amazzoni! I dischi caldi, come dicevano la radio. I dischi caldi. Terzo classificato, con 3 minuti e 13 secondi, l'istruttore, presidente del circolo icono-pipico Ecomont di Belfort di Lissauro, su Elvis, Timeri, Mirko! Un applauso! E' la prima volta che il babbo arriva, prima del figlio, in queste gare, però in un'altra categoria. Premia l'indialina e la cowgirl, anche lui coppa formaggio e salame. Resta qui Mirko. Abbiamo un podio quasi tutto al femminile, lui non è un masco, ma la seconda classificata, con 3 minuti e 9 secondi, figlia d'arte, Ruggera Rebecca, su Giulietta! Premia Giulietta, questo bel ragazzo, Manuel, della BDN! Anche lei coppa, salame e formaggio. E ora, vince la prima gincana di Mercatello, moderna, la prima scala di Mercatello, su Kansas, la principessa di Osimo, Attini Roberta! Due minuti e non è possibile 94 secondi. Due minuti e 94 secondi mi sembra un po' strano. Comunque, Attini Roberta su Kansas e premia Manuel, della BDN. Anche lei coppa, grande coppa, la coppa di testa. E la coppa di testa, salame e formaggio. La coppa di testa, salame e formaggio. La coppa di testa, salame e formaggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.